Fiori e lumini in mano, preghiera e invocazioni in testa. Così si apprestano a varcare le soglie dei cimiteri i visitatori che nel periodo dell'anno dedicato a santi e morti affollano i luoghi di riposo di chi un tempo fu. Anche a Chieti il cimitero di Sant'Anna si prepara a questo fine settimana di raccoglimento e preghiera, mettendo a disposizione i servizi aggiuntivi, come spiega il Tg8 Alberta Giannini, assessora ai servizi cimiteriali del Comune di Chieti. Il Comune di Chieti sta predisponendo da giorni l'accoglienza l'avuta ai nostri concittadini che vengono in visita per salutare i propri cari. Dal 30, quindi da ieri, è stato interdetto l'utilizzo dei mezzi privati all'interno del cimitero nuovo per motivi evidenti, ma ovviamente potranno entrare coloro che hanno il contrassegno per i disabili e il primo novembre, quindi domani, sarà messo a disposizione dalla Chieti Solidale un automezzo idoneo al trasporto sia dei disabili o di tutti i nostri concittadini che avranno necessità di raggiungere siti scomodi. Sono stati installati cinque bagni chimici, oltre due fisse, di cui uno per disabili. Purtroppo quest'anno sono arrivate le prescrizioni del bilancio, che sono pesantissime, e quindi quest'anno purtroppo, nonostante con la disponibilità dell'assessore Stefano Rispoli, abbiamo trovato una piccola somma per poter comprare le piante delle quali orniamo, decoriamo ogni anno il cimitero, purtroppo la spesa non è stata possibile perché rientra nei beni cosiddetti non necessari alla vita amministrativa dell'ente. Ce ne scusiamo, ma questo riusciamo a fare con queste risorse. Gli orari di apertura del cimitero di Sant'Anna a Chieti sono stati prolungati per questa giornata, quali sono? Gli orari sono i soliti. Certo, all'uscita ci sarà un minimo di flessibilità perché arriva sempre il cittadino agli ultimi cinque minuti che chiede di entrare per pochi secondi. L'ingresso 7.30, loro apriranno prima alle 6.30 per consentire lo spazzamento delle macchine di formula ambiente che in questi giorni sarà presente e chiuderanno alle 17.30 con una flessibilità di cortesia istituzionale per le persone che arriveranno come sempre un po' in ritardo. Ci tengo a ringraziare personalmente anche a nome del sindaco sia gli addetti al cimitero che in questi giorni in un numero esiguo stanno facendo il massimo per tenere la struttura pulita, ma anche gli uffici comunali che veramente si sono prestati tantissimo affinché riesca tutto, tra parentesi sia il primo novembre ma anche il 2 con la messa del suo eccellenza al vescovo e tutto quello che c'è attorno a queste giornate. Cosa rappresenta la giornata dedicata ai morti? Questo giorno è un momento importante perché si ricordano i nostri cari, però la cosa che mi dispiace è che è solo questo giorno che questo luogo si animi con tutte queste persone che si affacendano a pulire le tombe, a mettere i fiori freschi. Tra una settimana se si viene qui purtroppo si nota il degrado e questo mi dispiace tanto. Per me è sempre il primo novembre, io ricordo di molti sempre e prego per loro, per tutti. Io ci vengo spesso, non tutti i giorni, però ci vengo. Mi piace tenerlo pulito più che altro, pure se non metti i fiori. È importante pure che gli altri vengono almeno una volta all'anno, perché ci stanno i nostri cari qui.